Buongiorno, in questo video selezionerò il migliore TC quotato su Borsa Italiana per investire sull'argento. Io sono Gabriele Bellelli, sono un trader, un investitore e un educatore finanziario indipendente e gestisco il sito bellelli.biz. Attualmente su Borsa Italiana sono quotati numerosi prodotti finanziari che permettono di investire sull'argento. Diventa quindi indispensabile per un risparmiatore dotarsi di un metodo che sia idoneo per poter selezionare l'ETC più efficiente da inserire all'interno del portafoglio oppure da utilizzare all'interno della propria strategia operativa. Per poter effettuare la selezione utilizzerò lo stesso criterio che ho illustrato nel mio libro investire con gli ETF e con gli ETC che puoi trovare in qualsiasi libreria oltre che sul sito Amazon. Il primo passaggio consiste nell'andare a censire tutti gli ETC quotati andandone a sintetizzare quelle che sono le caratteristiche principali, le caratteristiche salienti, magari aiutandoci da un foglio Excel come in questo caso. Passiamo proprio sul foglio Excel. Come puoi vedere attualmente sono quotati 13 ETC che permettono di investire sull'argento. Ciascuno di questi 13 ETC ha delle caratteristiche ben specifiche che occorre conoscere per inquadrare il prodotto e poter effettuare la selezione. Partiamo un attimo con la descrizione sintetica di queste caratteristiche. Allora, una prima caratteristica riguarda la strategia che viene replicata dall'ETC. Alcuni replica una strategia long, cioè una strategia rialzista, quindi che permette di guadagnare da un rialzo del prezzo dell'argento. Quindi l'ETC aumenta di prezzo se aumenta di prezzo il valore dell'argento. Al contrario invece alcuni, vedete, sono short, vuol dire che replica una strategia ribassista, vuol dire che in questo caso il prezzo dell'ETC aumenta di valore nel momento in cui diminuisce il prezzo dell'argento. Una seconda caratteristica da analizzare riguarda la tipologia del sottostante, la tipologia di replica e di conseguenza l'effetto contango. Allora, vediamo che alcuni, che sono la minoranza, ETC comprano materialmente dell'argento fisico, quindi comprano materialmente dei lingotti d'argento, sono quindi a replica fisica del sottostante e non subiscono l'effetto negativo del contango. Altrettanto non si può dire invece della maggioranza degli ETC che vedete, sono una replica sintetica, vuol dire che per replicare la performance del sottostante utilizzano dei contratti derivati, nel caso specifico utilizzano dei contratti futures e di conseguenza soffrono l'effetto contango. Poi c'è un terzo fattore da considerare che è quello della leva finanziaria. Alcuni ETC non hanno leva e quindi non hanno criticità da questo punto di vista, mentre altri ETC vedete che invece sono a leva, a volte con un fattore di 2, a volte con un fattore di 3. Quindi vuol dire che fondamentalmente le loro performance di questi ETC sono basate sul meccanismo della leva. Quindi fondamentalmente per darti un'idea, se un ETC a leva 2 significa che moltiplica per 2 le performance del sottostante, se invece l'ETC è a leva 3 vuol dire che moltiplica per 3 le performance del sottostante. Ti faccio un esempio giusto per chiarire questo aspetto, se l'ETF è long a leva 2 e l'argento sale del 2%, la performance dell'ETC sarà 2 per 2 uguale più 4, ma attenzione però perché la leva finanziaria funziona sia nella buona come nella cattiva sorte. Per cui se l'argento scende del 2%, l'ETC long a leva 2 ottiene una performance negativa del meno 4%. Io personalmente sconsiglio sempre di utilizzare gli ETF a leva, per 3 motivi fondamentalmente. Il primo perché la leva finanziaria è complicata da gestire, soprattutto per un neofita, quindi c'è un fattore di rischio. Il secondo perché la leva va a braccetto con l'effetto compounding, che tradotto sarebbe l'effetto dell'interesse composto, che è un effetto puramente matematico, che però fa sì che gli ETC a leva siano strutturalmente inefficienti, dal momento che quando sono detenuti all'interno del portafoglio per più sedute, quindi per più giorni, non vanno a replicare fedelmente l'andamento del sottostante. Poi c'è un terzo motivo, sono le parole di Warren Buffett, il leggendario investitore di Wall Street, che fondamentalmente sostiene che se non ci fosse la leva finanziaria non ci sarebbero problemi. La leva finanziaria, lui sostiene, è l'unico modo in cui una persona intelligente può costruire la propria rovina. Credo che non ci sia bisogno di altre parole al concetto espresso da Warren Buffett. E poi c'è un discorso, vedete, valutario. Alcuni ETC sono a cambio coperto, quindi contengono al loro interno un meccanismo di protezione che elimina completamente il cambio valutario, quindi il rischio valutario, ma vedete che la maggioranza dei prodotti invece soffre l'effetto cambio. In questo caso l'effetto cambio è euro-dollaro americano. L'effetto dollaro americano ovviamente si sente dal momento che l'argento è una materia prima, come tutte le materie prime, è negoziato e denominato in dollari. Poi ci sono anche alcuni altri fattori, ma li vediamo fra un attimo, ad analizzare che sono la liquidità dell'ETC, lo spread e il ter, che non è altro che il costo sintetico annuale di gestione dell'ETC. Ma questi tre aspetti li vedremo fra un attimo. Adesso dopo aver censito fondamentalmente, vedete, tutti quelli che sono gli ETC quotati, non dobbiamo fare altro che una scrematura. Noi iniziamo un processo di scrematura andando a eliminare tutte quelle soluzioni di investimento, quindi tutti quegli ETC fondamentalmente che non sono efficienti per quello che riguarda il nostro portafoglio, la nostra pianificazione finanziaria oppure la nostra strategia operativa. Come primo passaggio andrei a eliminare tutti gli ETC short, quindi quelli che replicano una strategia ribassista. Ci concentriamo quindi sugli ETC rialzisti, quelli che permettono al prezzo dell'ETC di aumentare di valore se aumenta il prezzo dell'argento. Come secondo passaggio andrei a eliminare tutti gli ETC che sono a leva finanziaria, dal momento che abbiamo detto sono strutturalmente inefficienti. Per lo stesso motivo, cioè il fatto che siano strutturalmente inefficienti, andrei a eliminare anche i prodotti a replica sintetica che soffrono del contango. Quindi eliminiamo anche tutti i prodotti che soffrono del contango. Come puoi vedere, con tre semplici passaggi molto veloci, abbiamo già ristretto la nostra selezione a soli tre ETC. Due di questi, i primi due, sono, lo vediamo, a cambio aperto, mentre l'ultimo è a cambio coperto, quindi prevede un meccanismo di copertura del cambio. Io direi di concentrarci sui primi due ETC di questo elenco, quindi l'Xtracker Physical Silver e il Wisdom Tree Physical Silver. Tecnicamente sono due ETC gemelli, perché investono entrambi nell'argento fisico, sono entrambi, abbiamo detto, a cambio aperto. Non è un caso, andiamo un attimo di nuovo sulle slide, che, vedete, le loro performance storiche siano assolutamente identiche. Se osservi questo grafico, troviamo l'andamento sia del Physical Silver di Wisdom Tree che di Xtrackers. Vedete, sono le due linee una sovrapposta all'altra. È quasi impercettibile il fatto che queste due linee siano sovrapposte. Questo testimonia come effettivamente le performance storiche, vedete, dal 2011 ad oggi di questi due prodotti, siano identiche, quindi questo vuol dire che di conseguenza il prodotto, vedete, è assolutamente identico. Ma ovviamente non c'erano dubbi dal momento che abbiamo detto che entrambi lavorano sull'argento fisico ed entrambi sono a cambio coperto. A questo punto, appurato che le due performance sono identiche, a questo punto occorre analizzare che cosa? Quei tre fattori che abbiamo lasciato momentaneamente indietro prima, cioè la liquidità, l'analisi dello spread del book e i costi di gestione. Torniamo quindi sul nostro file Excel per andare a vedere questi due prodotti che stiamo confrontando tra loro che caratteristiche hanno a livello di liquidità, a livello di spread e a livello di costi. Allora il costo annuale, il TER, vedete, è lo 0,4 per il primo e lo 0,49 per il secondo. Abbastanza simile, il secondo costa leggermente di più. Andiamo a osservare la liquidità e qui vedete che non c'è confronto. Il secondo è decisamente più liquido, più scambiato rispetto al primo. La liquidità è ovviamente un vantaggio perché maggiore la liquidità, maggiore sono gli scambi e maggiore la possibilità di incontrare una controparte in un qualsiasi momento sui mercati finanziari con cui scambiare le proprie quote. Quindi la liquidità più elevata è meglio. Quindi in questo caso il secondo ETC è senz'altro da preferire. L'analisi dello spread del book, anche in questo caso, vedete, presenta un valore minore il secondo ETC. Vuol dire che lo spread è più contenuto per il secondo. Quindi fondamentalmente il secondo, vedete, costa un filo di più, lo 0,49 contro lo 0,4 in termini di gestione annua di costi, ma è molto più liquido e presenta uno spread minore. Quindi da un punto di vista operativo, tra questi due prodotti è sicuramente da preferire il secondo, quindi quello di Wisdom Tree. Quindi da un punto di vista operativo vedete il prodotto di Wisdom Tree che permette di lavorare sull'argento fisico, quindi comprando dei lingotti. Qui trovate, vedete, il codice ISIN e qui trovate anche il ticker a cambio aperto, quindi senza nessun meccanismo di copertura, è quello da preferire, quello di Wisdom Tree, quindi in questo caso risulta, vedete, più efficiente rispetto all'altro, perché sebbene costi leggermente di più, uno 0,49 abbiamo detto rispetto allo 0,40, però grazie alla maggiore liquidità e al minore spread permette di essere più efficiente. Quindi tra gli ETC a cambio aperto, con sottostante l'argento fisico, la mia preferenza è quella verso Wisdom Tree Physical Silver. Se invece desideri andare a utilizzare un ETC a cambio coperto, ecco l'unica soluzione, visto che è emersa dal file, è quella fondamentalmente dell'extracker Physical Silver Hegel, quindi con copertura di cambio. Qui nella slide trovi tutte le caratteristiche, vedi, trovi il codice ISIN, trovi il ticker, e ovviamente abbiamo detto sull'argento fisico, quindi compre lingotti, questo è il nome del prodotto, è a cambio coperto, costano 0,45 all'anno, entrambi li ho sottolineato, vedete che sono ad accumulazione dei proventi, in realtà è un termine non corretto, perché gli ETC sulle materie prime non pagano cedole, proprio perché la materia prima, in questo caso l'argento, non paga cedole, non è che ti paga una scaglietta di argento ogni tot, quindi li ho indicati ad accumulazione, perché nelle principali piattaforme li trovi descritti così, ma in realtà sono a non erogazione dei proventi. Ok, prima di salutarti, giusto due informazioni al volo, se ti va a mi metti mi piace in calce a questo video, magari iscriviti anche al mio canale YouTube, per essere sempre aggiornato sui miei video, e iscriviti anche al mio gruppo chiuso e gratuito su Facebook, si chiama Gabriele Bellelli Trading e Investing, se hai dei dubbi e delle domande su questo argomento mi puoi contattare, mi puoi contattare direttamente scrivendo una domanda sul gruppo, oppure mi puoi contattare, vedete l'indirizzo che trovi in calce a ogni slide, oppure anche qui nella slide conclusiva, grazie a tutti per l'attenzione, buona giornata e buon investing.